Voglio però dire in premessa, e ci tengo molto, che il Consiglio dei Ministri ha iniziato esprimendo all'unanimità e con grande, forte sostegno, solidarietà al Presidente della Repubblica per la richiesta di impeachment che ieri è venuta dal Movimento 5 Stelle. Riteniamo quella richiesta di impeachment un atto grave, profondamente sbagliato, completamente fuori da qualunque dimensione che abbia a che vedere con le regole del nostro Paese. È una provocazione, è una provocazione bella e buona, che rappresenta un'ulteriore tappa di questa escalation di attacco alle istituzioni che il Movimento 5 Stelle ha messo come sua azione, azione politica.